da emozioni. Le emozioni ipnotizzano, quindi tu devi saper stimolare emozioni. Utilizza moltissimo i canali della comunicazione non verbale, la prossemica, la cinesica, la paralinguistica, il contatto. Cerca di entrare in contatto con gli uomini, casualmente tocca, li sfiora, li sorridi, ridi alle loro battute e questo è quello che ti permetterà di, tra virgolette, creare un flash ipnotico, di ipnotizzare. Ovviamente solo con gli uomini di alto livello, gli altri manco devi prenderli in considerazione. Quando un giornalista chiesa a Marilyn, ma come mai non si innamora mai di un medico, un elettricista, un idraulico, non lo so. Beh, lei dice, io questi manco li pigli in considerazione. Quindi adesso non è che devi sedurre il Presidente degli Stati Uniti, però cerca almeno uomini che abbiano un alto livello, insomma, culturale sicuramente, ma anche sociale, anche economico, perché, beh, è molto meglio, insomma. Ovviamente è uno che ti piaccia. Ecco, quindi utilizzando la paralinguistica, utilizzando bene il linguaggio del corpo, la camminata è un punto, anche un altro punto molto importante. Camminare nel modo corretto è fondamentale. Quindi la camminata deve essere leggermente ancheggiante, perché, quindi i tacchi devono esserci, e porta l'attenzione del tuo uomo su quella parte lì, sul lato B. E il lato B va curato. Perché le statistiche dicono che le parti fisiche che piacciono in più agli uomini sono lato B, gambe e anche il decolleté, diciamo così. E quindi valorizza queste parti, utilizza anche un abbigliamento che li valorizzi, ma che non ti imputtanisca. Il mignotone da corsa non seduce nessuno. E quindi altro momento importante è stare seduti. Una donna seduta in modo elegante può sedurre molto. Devi essere sempre, diciamo, curata nei dettagli. Le unghie, le mani, le mani sono molto importanti. Evita, mi raccomando, anche qua sono una truzzata assurda, le unghie da tigre a denti a sciabbo, le unghie, le unghie di plastica a 5 cm. Sono veramente una schifezza assurda. Unghie naturali, curate, mani curate, daranno veramente un... Ti faranno veramente apparire come una donna di classe, una donna raffinata. E se riuscirai a mantenere la calma, diciamo così, non diventare, non essere bisognosa e saper gestire, saper stimolare e poi gestire il desiderio, negando il possesso, ma dando l'idea che se facesse qualcosa in più otterrebbe qualcosa, beh, sicuramente riuscirai, tra virgolette, a sedurre e ipnotizzare uomini di alto livello, perché gli altri non li prendi neanche in considerazione. Ti ricordo quindi di iscriverti.